Un uomo di 36 anni perde la vita e il figlioletto di Otto è ricoverato in gravi condizioni a causa di un incidente stradale causato da un 22enne di Sant'Egidio la Vibrata, ubriaco e denunciato per omicidio colposo. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi visita ancora una volta gli sfollati di San Nicolò e annuncia che entro il mese di agosto potranno iniziare i lavori. I conti della sanità sono a posto, lo sostiene il segretario della presidenza della regione Enrico Mazzarelli. Non si placano le polemiche sul ruzzo, nella prossima assemblea dei sindaci il centro-sinistra tornerà a chiedere la revoca di quattro componenti su cinque del consiglio di amministrazione. L'ARPA istituisce otto nuove corse per il collegamento a Tripineto. Il Teramo è stato inserito nel girone B di seconda divisione insieme all'Aquila e Chieti. Il Città di Giuglianova 1924 ha ingaggiato otto giocatori negli ultimi quattro giorni. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Teleponte. Buonasera, apriamo questa edizione del giornale con la cronaca. Un morto e quattro feriti di cui un bambino di otto anni in condizioni critiche. Il tradiccio bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla bonifica del Salinello all'altezza dell'incrocio con Nereto. Nell'impatto tra due autovetture, una Fiat Stilo e una Lancia Delta, perso la vita un albanese residente a Santomero, Maxim Islami. Di 36 anni l'uomo viaggiava assieme alla famiglia, il figlio di otto anni e i nonni del bimbo, mentre l'altro mezzo era condotto da un giovane di 22 anni di Sant'Egidola Vibrata. Il capofamiglia albanese è morto praticamente sul colpo. Il bambino invece è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale di Teramo. Le sue condizioni sono giudicate critiche e in gravi condizioni sono anche i nonni che viaggiavano nella Fiat. Il giovane conducente dell'altro mezzo invece è stato trasportato all'ospedale di Giulianova dove è stato sottoposto ad alcuni esami e si trova ricoverato in prognosi riservata. Va detto che nel corso della giornata poi la polizia stradale di Pineto ha ricostruito l'esatta dinamica dell'incidente e il conducente della Lancia Delta ad alta velocità ha invaso la corsia opposta dove viaggiava la Fiat Stilo il cui conducente non ha avuto nessuna possibilità di evitare l'urto. Nelle prime ore del pomeriggio poi dall'ospedale di Giulianova è arrivata anche la spiegazione del perché di questa invasione di corsia il conducente della Lancia Delta infatti aveva un tasso alcolico pari a 1,95. Aspetto questo che ha prodotto il sequestro penale da parte del veicolo ordinato dal pubblico Ministero Giovagnoni che poi oltre a sequestro amministrativo ha proposto anche la confisca. Il 22enne di Sant'Egidio sarà anche denunciato all'autorità giudiziaria per omicidio colposo aggravato dallo stato di ebrezza alcolica. Ancora cronaca, provocano un incidente stradale tamponando una vettura che li precedeva ma al momento di sbrigare le pratiche ovvero riempire il modello di constatazione amichevole del sinistro esibiscono un tagliando assicurativo falso. Due cittadini albanesi di 23 e 22 anni, entrambi residenti a Barletta, sono stati così denunciati dai carabinieri del radiomobile di Alba Adriatica per falsità materiale in atto pubblico e uso di atto falso. Ancora cronaca ma ci spostiamo ad Ancarano. Durante una perquisizione domiciliare lancia dal balcone un involucro contenente eroina che cade nel giardino sottostante. La cosa però non passa inosservata ai carabinieri che recuperano lo stupefacente e denunciano lo spacciatore. Si tratta di un tunisino di 27 anni senza fissa dimora che deve rispondere del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Sant'Egido infatti avevano deciso di effettuare una perquisizione all'interno di una casa di proprietà di un tossico di Ancarano perché convinti che all'interno si muovesse un'attività di spaccio. E adesso sulla costa la guardia costiera ha soccorso un'unità da diporto in avaria e ha avuto quindi la possibilità di portare in salvo un 26enne mentre durante i controlli i militari impiegati dalla guardia costiera di Giulianova hanno elevato a carico di due stabilimenti balneari un totale di 2.100 euro di sanzione amministrativa per violazione dell'ordinanza balneare della regione Abruzzo mentre quelli di Martinsicuro nell'ambito di un'ampia operazione e contrasto del commercio ambulante abusivo alla quale hanno partecipato anche appartenenti della locale stazione dei carabinieri e della polizia municipale hanno proceduto sul lungomare Italia di Villa Rosa all'identificazione di un extracomunitario intento alla vendita di materiale vario al quale è stato elevato un processo verbale di contestazione di 5.164 euro con relativo sequestro della merce. Cambiamo decisamente argomento, si apre uno spiraglio importante per gli sfollati del condominio Luliveto a San Nicolò entro la fine di agosto infatti potranno partire i lavori di sistemazione dello stabile attualmente inagibile che saranno rimborsati fino al 75% i particolari nel servizio. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi oggi pomeriggio ha portato la prima buona notizia agli sfollati del condominio Luliveto di San Nicolò a Tordino che di fatto tra breve potranno iniziare i lavori nello stabile, inagibile. Sì, siamo stati all'Aquila nella giornata di ieri e praticamente abbiamo avuto risposte positive anche per quanto riguarda i tempi, ci sono dei passaggi amministrativi ma insomma entro il mese di agosto, forse anche prima, però diciamo entro il mese di agosto arriveranno tutte le carte, i documenti che permetteranno A di avere il 75% come acconto dell'indennizzo che è previsto per la tipologia di tipo B, che è la catalogazione di questo stabile e il permesso per iniziare i lavori. Quindi questa è la buona notizia perché così loro iniziando i lavori prima iniziano e prima potranno rientrare nelle proprie case. Purtroppo invece è negativo il risultato del mio viaggio a Roma perché qualche giorno fa il capo di gabinetto ci ha fatto sapere che non è più possibile né avere né passare da B a E perché comunque c'è un ricorso al tarpendente e soprattutto l'autonoma sistemazione per le case B non si può dare più. Loro comunque, nonostante questa prima buona notizia, hanno annunciato che proseguiranno l'occupazione fino a quando queste carte non le vedranno. Vabbè, insomma, ma io capisco che loro sono anche un po' diffidenti e fanno anche bene. Insomma, io mi sono raccomandato di pensare però alla salute prima di tutto. Quindi stamattina io ho parlato personalmente con i dirigenti e funzionari all'Aquila. Insomma, oramai il percorso è chiuso. Restiamo a Teramo, occupiamoci adesso dell'8-0. I lavori procedono regolarmente e sono stati anche definiti dettagli per la pista ciclopedonale. Una nuova riunione questa mattina del tavolo tecnico per l'8-0 comune ANAS svoltasi proprio presso l'area di campiere della CONA. Naturalmente ci si riferisce ai lavori del secondo tratto dell'8-0. I lavori dunque procedono in perfetta sintonia rispetto al cronoprogramma, tanto che è possibile confermare quanto già annunciato dallo stesso sindaco Brucchi e cioè che gli stessi potranno essere completati entro la primavera prossima. E' stato poi definito nei dettagli il progetto della pista ciclopedonale che dalla statale 81 attraversa gli scavi archeologici della CONA e si ricongiunge con la pista pedonale già esistente. Uno specifico sopralluogo è stato a tal fine compiuto all'altezza dell'interferenza con via Mantonè e si è definito che l'ANAS provvederà al ripristino dei luoghi così come per l'altra interferenza esistente nelle adiacenze della contrada mezzanotte. Apriamo la pagina dedicata alla regione, i conti della sanità sono a posto, lo sostiene il segretario alla presidenza della regione Enrico Mazzarelli che poi aggiunge per vedere i risultati i cittadini abruzzesi dovranno però pazientare ancora un po' il servizio. Il sottosegretario alla salute ha detto che l'Abruzzo è un modello da seguire per il percorso che ha scelto nel ripianare i conti della sanità. I risultati sono straordinari perché in ogni caso l'Abruzzo è stato capace di mettersi in linea con le regioni virtuose ma questo è stato possibile non soltanto attraverso una politica di contenimento dei costi ma soprattutto attraverso lo studio dei livelli essenziali di assistenza e in questo momento, questa considerazione credo sia assolutamente decisiva, l'Abruzzo è per la prima volta il più vicino possibile a quelli che sono i livelli, chiamiamoli benchmarking nei quali si identificano i livelli essenziali di assistenza per il governo. Quindi da un lato questo risultato straordinario perché ha dei riflessi pratici importantissimi, la possibilità di sbloccare il turnover, quindi la possibilità di sostituire il personale che va in pensione, quindi di avere nuovi infermieri, di avere ulteriormente dei medici, dei primari, di avere soprattutto attrezzature nuove, dall'altro la possibilità di andare quanto più vicino possibile ai livelli essenziali di assistenza che vengono indicati dal governo. Questo si deve tradurre adesso in un ulteriore passaggio che deve essere quello della sanità percepita, adesso quello che è un discorso di politica sanitaria, quindi quello che spetta alla regione, quello che è stato il grande risultato di Chiodi, deve adesso tradursi ma per tramite gli amministratori delle ASI, quindi i direttori generali delle ASI, in un risultato che abbia un riflesso anche sulla sanità percepita, quindi un miglioramento effettivo dei servizi e come prima cosa per esempio le liste di attesa. L'Abruzzo al centro interviene sulle nomine del governatore Gianni Chiodi all'interno dell'istituto zooprofilattico definendo le scelte di qualità per preservare l'eccellenza. Le scelte del governatore Gianni Chiodi si legge nella nota dell'associazione L'Abruzzo al centro, commissario ad acta per la nomina dei due rappresentanti della regione Abruzzo nel CDA dell'IZS, consentono all'istituto di riprendere in condizioni di sicurezza e di certezza amministrativa il proprio ruolo di eccellenza nel panorama sanitario veterinario nazionale ed internazionale, ponendo fine a 20 anni di commissariamento e al vuoto che si era determinato dopo il pensionamento del direttore Vincenzo Caporale. Non si placano le polemiche in seno alla Ruzzo-Retti. Nella prossima assemblea i sindaci del centro-sinistra torneranno a chiedere la revoca di 4 di 5 componenti del Consiglio di amministrazione e servizio. I sindaci del centro-sinistra in vista della prossima assemblea dei sindaci a Ruzzo tornano a chiedere la revoca di 4 membri su 5 del CDA del Ruzzo. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, sostiene che non è possibile revocare i membri perché c'è bisogno di una giusta causa e qui non ci sarebbe. Voi cosa ne pensate? Il parere del sindaco di Teramo è un parere rispettabilissimo, però noi insistiamo su questo argomento perché secondo noi la giusta causa è evidente. Praticamente è stata adottata dal CDA del Ruzzo con la presidenza Ciappanna una delibera illegittima tanto per quanto attiene alla sua nomina presidente, tanto per quanto attiene all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di amministrazione della società. Quindi questi due atti confermano la giusta posizione che ha assunto il centro-sinistra all'interno dell'assemblea del Ruzzo, tant'è che nella stessa assemblea il bilancio non è stato portato all'approvazione. Intanto ieri si è insediato il nuovo presidente che ha promesso che la prima cosa che farà interverrà su quello che è il problema principale di questa estate di Teramo, ovvero la carenza idrica. Certo, il nuovo presidente, i migliori auguri, il più grosso in bocca al lupo che si possa fare perché ovviamente l'acqua, come più volte abbiamo detto, tanto rappresentanti di centro-destra che di centro-sinistra non ha colore politico, però ovviamente adesso la prima cosa da affrontare effettivamente è l'emergenza idrica. Il sindaco di Silvi Gaetano Vallescura si appella al governatore Gianni Chiodi in una lettera aperta, scrive sono mesi ormai che siamo in emergenza idrica, un problema ormai ricorrente da anni al quale non si riesce a porre rimedio, serve a poco ricordarle, si rivolge sempre il sindaco di Silvi al governatore Chiodi che la problematica non è dovuta solo alla siccità acclarata in questi giorni, ma siamo in emergenza idrica già dal mese di giugno. La prego di voler intervenire e di interessarsi per porre fine ad una sciagura che non dipende solo dalla natura, a mio avviso, madre non matrigna, ma anche dall'operato degli uomini quasi sempre patrigni. Conclude così il sindaco Gaetano Vallescura. Cambiamo argomento, è stato finanziato dalla regione Abruzzo il progetto Ecos e Aipa Adriatica. Saranno destinati quasi 4 milioni di euro a risorse ittiche e ambienti marini particolari nel servizio. L'Abruzzo conferma il suo impegno nella strategia integrata per la tutela dell'ambiente marino e costiero nell'area dell'Euroregione Adriatica attraverso il programma di cooperazione transfrontaliera Ipa Adriatico. Lo ha ribadito l'assessore alla pesca e politiche agricole Mauro Febbo nel comunicare l'approvazione del progetto Ecosì, redatto unitamente alla regione Veneto per un importo pari a 3,7 milioni di euro. Il programma Ipa Adriatico si pone in generale l'obiettivo di rafforzare la ricerca e l'innovazione e di facilitare lo sviluppo dell'area Adriatica attraverso la cooperazione economica, sociale e istituzionale. La potenzialità maggiore di Ipa è l'azione di sistema e la messa in rete degli interventi finanziati sia con fondi strutturali che nazionali nei territori dell'area Adriatica in alcuni settori strategici come trasporti, piccole e medie imprese, turismo e soprattutto ambiente. Nello specifico, spiega Mauro Febbo, il progetto è così allo scopo di promuovere, migliorare e proteggere gli ambienti marini e costieri attraverso una gestione sostenibile delle attività di pesca. Viene fornito il sostegno alle attività che riguardano la protezione ambientale e la prevenzione dei disastri naturali. È prevista anche una serie di attività connesse all'istruzione e alla sensibilizzazione delle popolazioni costiere dipendenti dalla pesca. In particolare verranno messe in campo azioni specifiche per promuovere gli scambi di conoscenze istituzionali volte all'applicazione di modelli innovati, interventi rivolti a mitigare il progressivo impoverimento delle risorse ittiche e la realizzazione di nuovi strumenti dell'attività della pesca coinvolgendo direttamente gli operatori. Restiamo in tema con un altro finanziamento da parte della Regione Abruzzo, 2 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo FSE 2007-2013 per l'alta formazione universitaria e il contenuto di un progetto realizzato dalla Regione. Vediamo. È stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo l'avviso del progetto voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione, finanziato con 2 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Abruzzo 2007-2013. L'iniziativa mira a favorire e sostenere il diritto all'alta formazione facilitando le scelte individuali degli studenti meritevoli attraverso l'erogazione di voucher finalizzati alla frequenza in Italia e all'estero, di corsi di studio universitario, specializzazioni, master e altri interventi di elevata valenza professionalizzante. In particolare i voucher formativi finanziabili sono riconducibili a tre tipologie di azioni. La prima prevede percorsi formativi universitari svolti in Italia e corsi di laurea triennale. La seconda prevede percorsi formativi post laurea svolti in Italia. La terza tipologia infine prevede percorsi formativi svolti all'estero. Per le prime due tipologie il finanziamento massimo per ogni singolo voucher è di 8.000 euro, per la terza il finanziamento massimo è di 12.000 euro. Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell'avviso fino al 20 settembre 2012. Da domenica scorsa otto nuove corse collegano Pineto ad Atris e questo è l'obiettivo del potenziamento del servizio deciso dall'ARPA. Flaviano Montebello membro del consiglio di amministrazione dell'ARPA. Voi come azienda di trasporto regionale avete istituito otto nuove corse collegamento tra Pineto ed Atria. Alla prima uscita subito un successo. Sì è andata molto bene. Domenica scorsa c'è stata la prima uscita. Otto nuove corse che permetteranno in questo momento magari ai cittadini di Atri di recarsi a Pineto al mare col pulma dell'ARPA. Ma la cosa più importante sia attualmente che nel periodo invernale permetteranno ai cittadini di Pineto di andare ad Atri a trovare qualcuno in ospedale la domenica quando fino a qualche tempo fa non c'era nessuna corsa. Ecco l'ARPA che sta pianificando una serie di servizi sul territorio per migliorarli soprattutto e favorire anche l'uso dei cittadini per quanto riguarda i mezzi pubblici. Sì anche l'attuale costo della benzina favorisce il servizio pubblico infatti sta aumentando l'utenza. Poi li stiamo pianificando nel miglior modo possibile. Teniamo conto che queste corse passeranno anche per le frazioni di Borgo Santa Maria di Mutignano. Nello stesso tempo a Pineto ci sarà coincidenza per andare o a Pescara o a Giulianova. Quindi insomma un servizio veramente di buon livello. Per quanto riguarda invece la riapertura delle scuole il prossimo 17 settembre su tutta la provincia di Teramo avete intenzione di aumentare anche il numero delle corse? Sì anche qui insomma oramai abbiamo un servizio consolidato nel tempo ma ci stiamo sendendo un po' con tutte le dirigenze scolastiche per vedere anche insomma di dare una risposta positiva. Ma insomma oramai qui l'esperienza è consolidata. A Giulianova Piazza Buozzi è stata adottata dal centro anziani Tiberio Orsini. Sarà compito degli attivi membri del centro curare i CICAS e gli Oleandri posti nelle nuove e grandi fioriere collocate sulla piazza dallo scorso mese di luglio. Una semplice e simpatica cerimonia con la consegna degli annaffiatoi e un brindisi collettivo ha suggellato la simbolica consegna della piazza al presidente del circolo Benito Cirilli e dal vice Giovanni Maiorani da parte del sindaco Francesco Mastromauro. Rimaniamo sulla costa ma ci spostiamo a Pineto visto che domani è prevista l'inaugurazione della nuova farmacia comunale a Borgo Santa Maria a Pineto. Infatti è prevista per domani mercoledì 8 agosto. L'apertura alle ore 16 in punto mentre alle 18 ci sarà l'inaugurazione. Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore Alberto Dell'Orletta che nel ringraziare il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e tutti i suoi componenti e l'ufficio legale del comune per il lavoro svolto. Il WWF invita i cittadini a non abbandonare rifiuti lungo scarpate e margini delle strade. Non solo ovviamente per una questione di senso civico ma anche e soprattutto in questo periodo per evitare il propagarsi di incendi. Sentiamo. Il WWF interviene sui numerosi incendi che stanno colpendo la città di Teramo. Ieri è stata una giornata caratterizzata da numerosi incendi che hanno colpito varie zone periferiche di Teramo, in particolare a ridosso del quartiere della Cona in Contrada Gattia. Già nei giorni scorsi, si legge nella nota della WWF, si era registrato un incendio incontrato a Carapollo, ma in realtà sono almeno tre anni che a Teramo si verificano situazioni simili in questo periodo dell'anno. Sembra quasi che ci sia un'unica regia, dichiara Pino Furia, presidente del WWF Teramo. Ci sono pochi dubbi che dietro gli incendi di questi giorni, come per quelli che hanno colpito la nostra città negli anni passati, ci sia la mano dell'uomo. Del resto è lo stesso corpo forestale dello Stato a ricordare che la quasi totalità degli incendi ha origine antropica o dolosa o colposa. I responsabili sono quasi sempre piromani o soggetti che hanno qualche interesse sull'area bruciata, oppure persone che involontariamente, per imperizia ed incuria, determinano l'avvio dell'incendio. Sono rarissimi i casi di incendi innati per cause naturali. Purtroppo molto spesso i responsabili di questi atti criminali non vengono individuati e possono tornare a colpire, determinando, oltre al danno ambientale, un vero e proprio pericolo per edifici e persone. Rivolgiamo un appello anche ai cittadini, a partire dai nostri soci, a fornire elementi potenzialmente utili all'identificazione di chi, con i suoi gesti sconsiderati, danneggia beni della collettività, crea situazioni di pericolo e distoglie mezzi, personali e risorse pubbliche da eventuali altre emergenze. È molto importante, conclude Pino Furia, che ogni qualvolta vengano segnalati al Comune, alla Team, rifiuti abbandonati, questi vengano rimosse al più presto, specialmente in questo periodo dell'anno. E anche in questo caso è necessaria un'azione sanzionatoria al fine di scoraggiare questa pratica incivile pericolosa. Parliamo di politica. L'ultimo Consiglio Comunale del Badriatica prima della pausa estiva è stato caratterizzato dall'assenza in aula dell'assessore ai lavori pubblici Gabriele Viviani, assenza sospetta che si innesta nella recente presa di posizione del Partito Democratico, che ha chiesto le dimissioni dell'assessore esterno per Luigi Marziale. La maggioranza però al momento sembra avere i numeri per proseguire e il sindaco al momento non ha intenzione di muovere nulla, i particolari nel servizio. L'assenza sospetta dell'assessore Gabriele Viviani, gli affondi della minoranza che abbandona l'aula per poi rientrare al punto successivo in occasione dell'approvazione di una delle lottizzazioni, quella firmata dall'assessore progettista Marziale, e le puntualizzazioni del sindaco che rivendica l'autonomia nella gestione amministrativa. L'ultimo consiglio comunale dal Badriatica prima della pausa estiva è stato tutt'altro che soporifero, soprattutto per una serie di implicazioni, anche di natura politica, frutto di recenti accadimenti. L'assenza nell'assemblea civica dell'assessore ai lavori pubblici Viviani, che mai era mancato nelle sedute di consiglio dal 2008 ad oggi, non è passata certo inosservata. Ufficialmente la defezione era per questioni di lavoro. In realtà pare che l'esponente del PD, prima del consiglio, aveva chiesto di ritirare i punti legati all'urbanistica e alla nomina del CDA della Fondazione Villa Flaiani, perché gli argomenti non sarebbero stati preventivamente oggetto di confronto e di discussione. Il resto della maggioranza però si è presentata in consiglio comunale. Mancava il consigliere Spinosi, ma per motivi di lavoro, e il numero legale è stato garantito nonostante qualche mal di pancia. Almeno nel gruppo di maggioranza la posizione critica di Viviani è rimasta l'unica. In serie di discussione poi i gruppi di opposizione hanno incalzato sia sui tempi ristretti avuti per analizzare gli interventi di natura urbanistica, ma hanno nuovamente riproposto il tema del conflitto di interesse dell'assessore al turismo Pierluigi Marziale, che ha firmato uno dei progetti approvati, quello relativo alla lottizzazione del camping Spiaggia d'Argento. Prima di discutere il punto, infatti, l'intera minoranza, erano presenti cinque consiglieri su otto, è uscita dall'aula. Il sindaco, nella circostanza, ha ricordato che l'incarico professionale di Marziale per la progettazione in oggetto era stato assunto nel 2007, prima dell'insediamento dell'attuale esecutivo, mentre a chi dai banchi dell'opposizione gli ha fatto notare la posizione della segretaria del Partito Democratico, la richiesta di dimissione dell'assessore Marziale, Giovannelli ha ribadito l'autonomia nelle scelte amministrative dell'esecutivo e il rispetto del patto sottoscritto con gli elettori, decodificando il pensiero, l'assessore esterno Marziale non si tocca. Il 19 agosto a Cortino, una bellissima manifestazione che coinvolgerà anche molti artisti. Sentiamo, vediamo. Il 19 agosto tra Pagliaroli e Elce, sul territorio del comune di Cortino, si svolgerà una manifestazione che coinvolgerà tutti gli artisti locali e ovviamente non sarà solo una manifestazione d'arte, ma ci saranno anche degli spettacoli. Sicuramente, sì. La prima manifestazione che il comune di Cortino l'ha voluta fortemente l'assessore Sara Marini, ci sta lavorando molto. La prima manifestazione che il comune di Cortino organizza a questo livello. Tra l'altro all'aperto. All'aperto, ma è quella la novità, no? Cerchiamo di fare una cosa sotto le stelle proprio. Quindi saranno tutti gli artisti, abbiamo invitato un po' tutti quanti i comuni, gli artisti locali e non, ovviamente si mangerà anche qualcosa, prodotti tipici, ci saranno le prologo che si esibiranno. Insomma, stiamo facendo una cosettina, penso, bellina, nuova, diciamo così. Praticamente andrete avanti non stop giorno e notte anche perché si inizierà la mattina alle 10 ma si andrà avanti praticamente fino all'alba del giorno dopo. Sicuramente sì, anche perché sotto le stelle quindi avremo un non stop veramente dalla mattina fino a notte nella strada, fino a quando vorremmo rimanere. Insomma, è bella perché si svolgerà su una grossissima piana, molto bella, si vede addirittura il mare da lì sopra, c'è tutto lo sfondo, si vede Teramo e tutto all'aperto. Molto, molto bello. Parliamo ancora di eventi successo per la prima edizione del premio per racconto breve intitolato a Fernando Aurini, giornalista terramano scomparso nel 2003. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Obiettivo Comune di Roseto, il servizio. La villa comunale di Roseto degli Abruzzi è stata spesso la cornice ideale per la stesura dei suoi manoscritti. Nella calma e nella riservatezza dei suoi giardini riusciva a creare vere e proprie monografie di artisti per i quali diveniva anfitrione. Il suo amore per la musica, la letteratura, il giornalismo, le arti e la cultura in genere sono rimaste leggendarie per coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Definire Fernando Aurini un semplice giornalista è sicuramente riduttivo. Cultore delle tradizioni abruzzesi e soprattutto di quelle terramane, della buona tavola e del bel vivere in genere è divenuto ora protagonista di un premio letterario a lui dedicato. Un omaggio alle sue abilità letterarie è culminato nella premiazione di sabato scorso proprio nella villa comunale di Roseto, organizzato dall'associazione culturale Obiettivo Comune e patrocinato dall'amministrazione rosetana. Presenti i tanti amici di Fernando, fra i quali lo storico Mario Giunco, che ne hanno delineato la figura, le innumerevoli doti e ne hanno omaggiato il ricordo e l'amore per la musica, ospitando il violoncellista Antonio D'Antonio, che si è esibito in diverse suite di Bach, Mozart e Chopin. All'evento hanno preso parte anche il sindaco di Roseto Ennio Pavone, il vice sindaco Alfonso Montese e l'assessore alla cultura Maristella Urbini. La giuria ha assegnato il primo premio a Lorena Marcelli con il racconto Sono nata contadina. A premiare la vincitrice non poteva esserci che il figlio di Fernando, Berardo Aurini, anche egli giornalista, che ha sottolineato il lato più gioviale di suo padre, amante della vita e di tutto ciò che essa di più entusiasmante può regalare. Un'iniziativa bellissima, ha detto Berardo, peccato però che in queste occasioni manchi sempre la persona a cui sono dedicate. E torna a Valle Castellana la notte delle paure. Quest'anno avrà come tema paure e fobie sociali. Servizio. Dal 10 al 12 agosto torna a Valle Castellana la notte delle paure. Sindaco, quella di quest'anno è la diciottesima edizione. Sì, sono passati tanti anni e anche quest'anno con mille difficoltà, però ci siamo sempre e mi auguro di riuscire a portare avanti questa manifestazione che ha delle caratteristiche, delle peculiarità tutte sue, quindi sarebbe un peccato perderla. Lo spettacolo che porterete in scena a Valle Castellana avrà come tema paure e fobie sociali. Sì, quest'anno per la prima volta affrontiamo direttamente il concetto della paura, inteso come un rapporto di una storia culturale, fortemente connotato con il posto dal quale le persone provengono. Per questo paure e fobie sociali è molto attualizzato, quindi lavoriamo su tutto quello che la società attuale ci provoca, fra paure e timori, che potrei fare un elenco da qui a domani mattina. Come nasce lo spettacolo? Quest'anno abbiamo voluto riattivare il laboratorio teatrale, era un'esperienza che ci ha accompagnato per diversissimi anni e abbiamo avuto la fortuna quest'anno di avere un regista e dei partecipanti volontari che hanno aderito a questa nostra iniziativa, quindi è un percorso, è un percorso di persone volontarie che si incontrano, che amano fare queste attività, che si trovano sul posto e che lavorano insieme. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci dice tutto Meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo. Bel tempo su tutto il territorio provinciale per l'intero arco della giornata. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 30 e 33 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 29 e 32 sulle coste. Venti moderati settentrionali, adriatico poco mosso o mosso a largo. Eccoci alla pagina sportiva, cominciamo subito con il calcio. Ebbene il Teramo è stato inserito nel girone B di seconda divisione insieme a Chieti e l'Aquila. Il servizio. Tutto come nelle previsioni o quasi. Sono stati ufficializzati oggi dalla Lega Pro i gironi di prima e seconda divisione. Il Teramo, che tornerà a calcare campi professionistici dopo la scomparsa, è stato inserito nel girone B di seconda divisione. Raggruppamento che ricalca grosse linee quello della scorsa stagione, con alcune importanti novità. Gli uomini di Cappellacci daranno vita a due derbi abruzzesi, con l'Aquila e Chieti, mentre dovranno viaggiare quattro volte in Toscana per affrontare Borgo Bugiano, Gavorrano, Poggi Bonzi e Pontedera. Le squadre campane sono tre, Arzanese, Aversa Normanna e la neopromossa Salernitana. Due le Laziali, Aprilia e Fondi. Così come saranno due le trasferte in Calabria, alla Mezzia Terme e al Reggio Calabria, contro l'Interreggio, altra formazione neopromossa. Nello stesso girone poi compaiono Campobasso, Foligno, Martina Franca e Melfi. Le neopromosse inserite nel girone B sono quattro, Teramo, Interreggio, Salernitana e Martina Franca. Giovedì 9 agosto intanto saranno resi noti i calendari, mentre il torneo prenderà il via il prossimo 2 settembre. Intanto la società Biancorossa comunica che in occasione della gara amichevole Teramo-San Nicolò in programma domenica 12 agosto alle 20.45 presso lo stadio comunale Piano Dacci i prezzi dei tagliandi d'ingresso, curva 5 euro, tribuna 10 euro. Non saranno messi in vendita biglietti ridotti, le donne e i ragazzi fino agli anni 14 potranno accedere gratuitamente, non sarà attivato il servizio di prevendita e i botteghini saranno regolarmente aperti nel giorno della gara. E sono giorni di gironi e calendari anche per la Serie D. Il San Nicolò, unica formazione aprutina che disputerà il torneo, attende di conoscere i suoi avversari. I nove gironi della Serie D saranno ufficializzati giovedì 9 agosto al pari degli accoppiamenti per il turno preliminare di Coppa Italia. I calendari invece saranno pubblicati lunedì 13 agosto. Scendiamo di categoria, il Giulianova in fiamma, il mercato di eccellenza. Negli ultimi quattro giorni infatti sono stati ingaggiati ben otto giocatori. Chiaro l'obiettivo, cercare di vincere il campionato al primo tentativo. Il punto con questo servizio. Prende sempre più forma il città di Giulianova 1924 che si appresta a disputare il campionato di eccellenza con il chiaro obiettivo di vincerlo dopo un solo anno di purgatorio. La società, in attesa di definire i quadri dirigenziali, ha già ufficializzato l'ingaggio di alcuni giocatori di esperienza e di altri più giovani per allestire una rosa competitiva su cui sta lavorando da un paio di settimane il tecnico Angelo Pagliaccetti. Nelle ultime ore il sodalizio giallorosso ha formalizzato gli ingaggi di ben otto calciatori che già si allenavano con il nuovo gruppo. Si tratta del difensore Roberto Stacchiotti, 26 anni, cresciuto nelle giovanili del Giulianova prima di approdare in squadre di categoria inferiore. Centrale difensivo che può giocare anche a sinistra con ottimo intuito del gol. Preso anche il centrocampista Giampiero Francia, 28 anni, l'ultima stagione a Francavilla. Sono arrivati inoltre anche tre attaccanti come Nicola Olivieri, 25 anni, Stefano Torbidone, di 20 anni, e Mattia Dazzi, 19 anni. Gli ultimi due hanno esordito lo scorso anno in seconda divisione proprio con il Giulianova, quello non iscritto dall'ex presidente Dario D'Agostino al campionato di Lega Pro. Gli ultimi tre colpi di mercato hanno riguardato il portiere Marco Franchi, di 36 anni, il centrocampista Daniele Di Camillo, classe 84, e che gli sportivi teramani conoscono perché ha indossato la maglia del San Nicolò prima di passare alla Tessa Val di Sangro. E infine Davide Colacioppo, 28 anni, anche lui volto noto. Negli ultimi anni ha indossato le maglie del Cologna Paese, del Teramo, e infine del San Nicolò. E' certamente un organico di tutto rispetto, composto da elementi che conoscono molto bene la categoria. Del resto l'avvocato Berardo D'Antonio e il responsabile dell'area tecnica Francesco Giorgini lo hanno detto a chiare lettere. Per vincere questo campionato servono elementi che sposino una causa e che conoscano il torneo di eccellenza. Intanto domani la squadra, a partire dalle 9.30, si allenerà alla Fadini. E adesso il basket, settore giovanile, campionato di Serie D. Questi gli impegni della neonata società Basketball Teramo. Vediamo il servizio. La squadra Basketball Teramo parteciperà al prossimo campionato di Serie D di basket. Ovviamente questa società però ha dietro un bel settore giovanile. Sì, diciamo che noi siamo nati il 20 di giugno come società e in questi due mesi abbiamo lavorato molto per cercare di fornire alla città e ai ragazzi un prosieguo di quella che è stata un'attività sicuramente molto importante per Teramo. e ci siamo strutturati dopo aver tentato diciamo inutilmente purtroppo di collaborare, insomma di creare un filo unico che partisse dal mini basket e finisse alla prima squadra. Volevate fare un unico settore giovanile a terra? Sì, si voleva fare questa cosa e noi ce l'abbiamo veramente messa tutta come molte persone sanno perché ci siamo attivati per circa due mesi. e insomma siamo adesso però non dico costretti insomma però per poter proseguire la nostra attività abbiamo strutturato un percorso unico per i ragazzi terramani che va dal mini basket che è stato appena costituito come centro mini basket al settore giovanile e alla serie D che dovrebbe costituire insomma lo sbocco per i nostri ragazzi quando finiranno il percorso giovanile. A se al palazzetto qui insomma verremo soltanto con la prima squadra probabilmente. Certo a questo proposito colgo l'occasione per rivolgermi alla cittadinanza a tutti coloro che volessero contribuire e far crescere questa società noi siamo a disposizione sicuramente in questa settimana ma poi anche dal 20 di agosto in poi dove appunto nella nostra sede di via Nazario Sauro numero 16 ci sono tutte le informazioni e i chiarimenti che possono essere utili per la città. Un'ultima notizia sempre di basket prima di chiudere il Roseto Sharks ha perfezionato l'ingaggio dell'atleta under classe 93 Nicolas D'Arrigo la Mecca Energy potrà ora godere di un giovane più interessante l'anno scorso infatti ha giocato a Fabriano in DNA mettendosi in mostra solo in metà stagione perdendo l'altra per via di un banale ma concreto problema di tesseramento. E proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito non dimenticate che potete sempre seguirci in diretta o in differita sulla nostra web tv www.teleponte.it l'informazione torna domani come sempre in diretta alle 14 grazie ancora e buona serata buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti